Nelle ultime ore il nucleo investigativo del gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria su ordine della procura ha posto sotto sequestro preventivo il parco delle fontane nel borgo di Riace. Si tratta di un'opera che entra a pieno titolo nell'operazione Xenia sull'accoglienza dei migranti. Un terreno abbastanza esteso situato proprio al ridosso del centro abitato di Riace in una vallata che negli anni ha subito diverse ristrutturazioni per essere adibito a fattoria didattica. Già sullo stesso terreno erano state costruite delle casupole per il ricovero degli asini che venivano utilizzati per la raccolta dei rifiuti soliti urbani nel comune. Ora i carabinieri forestali hanno apposto i sigilli. Negli anni passati il Consiglio Comunale di Riace aveva deliberato un atto di impulso per concedere a Capone per conto della cooperativa rappresentata il permesso di costruire in variante allo strumento urbanistico vigente nel comune. A supporto della decisione si parlava di parco didattico con creazione di percorsi didattico conoscitivi della flora e della fauna locale nell'area parco alle fontane per contribuire è scritto nell'atto deliberativo del 2015 anche alla crescita turistico e occupazionale del territorio. Nessuna eccezione da parte dei consiglieri comunali presenti a quella seduta tranne che un amministratore di opposizione. La manifestazione di interesse era stata pubblicata dal comune di Riace. È stata indetta una procedura per l'affidamento di 10 anni del servizio di gestione del parco urbano alle fontane in sistema del borgo rurale negli spazi di proprietà dell'ente. E in parte il progetto sarebbe stato realizzato. Gli annunci non sono mancati. Presto al via una fattoria didattica nell'area del parco delle fontane con asini e mucche per produrre e trasportare latte fresco creando occasione di lavoro abbattendo i costi ed eliminando sprechi e rifiuti e soprattutto recuperando antichi e genuini sapori. Come si legge in un passaggio dell'ordinanza di custodia cautelare di ottobre 2018 nel corso delle indagini condotte dalle fiamme gialle di Locri qualcuno a domanda degli investigatori così rispondeva. In questi ultimi tempi il sindaco Lucano è impegnato a far completare i lavori al parco delle fontane attraverso una serie di assunzioni effettuate da città futura ma utilizzate per il completamento dell'opera.